Noi chiaramente siamo a mettere a disposizione il nostro territorio per stimolarli a fare chissà mai un film come ha fatto Benigni che ha vinto l'Oscar a Los Angeles per l'appunto nel 99 facendo vedere tutti gli ambienti della vita bella. Grazie al rapporto creato con la città di Burbank in America è in fase di organizzazione una tre giorni a retina per portare in città i vertici di Netflix e delle altre più importanti piattaforme TV e streaming che hanno sede proprio nella contea di Los Angeles. Un progetto fortemente voluto dalla fondazione Arezzo Wave che ha già avuto il parere favorevole dell'amministrazione comunale e ha coinvolto la fondazione Guido di Arezzo e Arezzo in Tour che si occuperà dell'incoming. L'evento è in programma dal 10 al 12 novembre. Noi faremo un incontro ufficiale con una delegazione da Los Angeles che ha al suo interno sia i rappresentanti della città di Burbank che è gemellata con il comune di Arezzo sia dei presidenti o vicepresidenti di strutture quali Netflix, Paramount, Universal, Amazon, Fox TV quindi i più grandi player nella realizzazione di video e di serie a livello di film a livello mondiale. Quindi il nostro obiettivo è invogliare questi soggetti ad essere incuriositi dal nostro territorio, pensare di poterci realizzare qualcosa e al tempo stesso la sera invece fare un festival con artisti italiani che vorremmo far vedere agli americani perché chissà mai possano entrare in America e dei due artisti invece americani che loro ci portano come festa e come momento di incontro tra Arezzo Wave e Music Expo. Questo sarebbe al Teatro Tenda l'11 e il 12 di novembre in collaborazione con la fondazione Guido d'Arezzo che è stato molto disponibile a lavorare su questo percorso.